Ciao, io sono Aurora di Epilegia Beauty Peps. Benvenuto in questa rubrica. Oggi ti voglio parlare di depilazione. Allora, voglio farti conoscere una nuova depilazione che abbiamo ideato per te, che si chiama depilazione spa, il nostro pezzo forte. La depilazione spa come si differenzia dalle altre? Diciamo che è una tecnica particolare che va a diminuire i peli, va ad aiutare a far formare meno peli incarniti o addirittura a toglierli del tutto. Va a migliorare anche la pelle, quindi la pelle diventa proprio più lissa, più bella, più più bella al tatto, quindi donne per i vostri uomini è eccezionale. E quindi il pelo che cosa succede? Il pelo diventa più morbido e quindi questa depilazione fa sì che i nostri peli possano diminuire, sia per le donne che per gli uomini. È molto data anche agli uomini, proprio perché l'uomo ha un pelo molto duro e quindi aiuta proprio a snellirlo e già abbiamo dimostrato anche su noi stesse che già dopo 4 volte si ottengono già degli ottimi risultati. Allora, come viene fatta questa depil spa? Viene fatta in due tempi. Ha una preparazione da fare il giorno prima della depilazione che si fa facendo due peeling particolari dove in questo modo si va ad ammorbidire i peli, a far uscire quelli incarniti dove ci sono e quindi a preparare la pelle e il pelo per il giorno dopo. Il giorno dopo facciamo una depilazione in una sera molto particolare che è una sera molto di qualità e diciamo che dopo questa depilazione andiamo a fare degli impacchi caldo-freddi e dopo mettiamo una fiala ritardante proprio per ritardare la ricrescita. Dopo questa fiala mettiamo anche una crema specifica alla calendula che aiuta anche a cicatrizzare la pelle e migliorare l'idratazione. Allora, tutti questi passaggi che ti ho elencato sono tutti quanti hanno una sua motivazione, quindi servono proprio per andare a diminuire il pelo e ad ammorbidirlo per far sì che tramite questa idratazione noi poi consigliamo anche di prolungare questo trattamento perché non è una vera depilazione ma diventa proprio un trattamento, un trattamento spa, un trattamento speciale per la tua pelle e per i tuoi peli dove in realtà si va ad ottenere un risultato eccezionale. In questo modo si può veramente diminuire il pelo e comunque coccolare la nostra pelle. Allora, in questo caso faremo proprio una rubrica speciale per i nostri clienti dove faremo un video che va proprio a mostrare effettivamente su una parte del corpo, faremo proprio vedere come i risultati di questa depilazione, come viene svolto questo trattamento eccezionale. Questo proprio è un'esclusiva per i nostri clienti. Per oggi è tutto, io ti invito comunque come sempre a commentare e a chiedermi sul mio blog o anche su Facebook che ti rammento il mio nuovo blog che è www.aquilegiabeautypeps.it slash blog. Ciao e alla prossima rubrica. Ciao ciao! Ciao!